Lucchese e Gubbio al Portelisa per la giornata numero 14 del girone BDC. 4-3-1-2 per Maraia con Visconti trequartista alle spalle di Semprini e Bruzzaniti. 3-4-3 per Braglia con Signorini al centro della difesa, Bontè in mediana e Arena Spina a supporto di Vasquez. Panchina tra gli altri per Redolfi, Toscano e Mbakogu. Decimo minuto, traccia orizzontale di Bontà per Arena che riceve nel mezzo spazio e in buca per l'inserimento di Corsinelli che cade a terra dopo un contatto con Tiritiello. Per l'arbitro, carrione di Castellammare di Stabia e calcio di rigore per il Gubbio, ammunizione per il difensore lucchese, decisione molto contestata dai locali. Dal dischetto, Varena che con una trasformazione mancina impeccabile spiazza l'ex Cucchietti e porta avanti il Gubbio. Quinta gioia personale stadionale per il classe 2000 nativo di Marina di Ragusa e Rosso Blu subito avanti. Al ventesimo, contatto nell'area opposta tra Mastagli e Corsinelli. Per l'arbitro, la punizione è in favore del Gubbio. Al ventitresimo, altra svolta del match, dopo un corpo a corpo con Basquez appena dopo la metà campo, Tiritiello ferma irregolarmente la corsa di Bontà. Nessun dubbio per Carrione, secondo già l'espulsione per il centrale difensivo ex Cosenza. E Lucchese, che oltre al gol da recuperare, è costretta a giocare per 70 minuti con un uomo in meno. Maraia inserisce Bacchini per Dalena, passando di fatto al 4-3-2, con Visconti carretto in mediana. Ma il trentaduesimo, imperiale, anticipo sul cerchio di centrocampo di Bonini, Basquez serve sulla corsa ancora il movimento dell'ex Bologna. Chiuvo dalla retroguardia rossonera, subentra di nuovo Basquez, che ha sul destro un rigore in movimento, ma l'argentino calcia lato, sciupando una ghiotta occasione per raddoppiare. Si chiude sul punteggio di Lucchese 0, Gubbio 1, la prima frazione, con i rossoneri con un uomo in meno. E nella ripresa, dopo 57 minuti, dal lancio profondo di Signorini, Morelli ruba il tempo ad Alagna e calcia di prima in diagonale, sfera di poco a lato. Fuori l'ammonito Bontà, dentro Toscano nel Gubbio, al 65esimo, ancora Corsinelli sfiori il gol su assistenza di Arena, ma il destro dell'ex di turno è fuori misura. Passano pochi secondi, e da un recupero palla, sua aggressione alta rosso-blu, Arena riceve sulla sinistra. Scambio al limite con Basquez, che calcia ma viene contratto da Lagna, raccoglie il pallone ancora Arena, doppia finta ubriacante, il neò entrato Merletti, per una giocata di maestosità tecnica calcistica, impreziosita dal raso Terramancino, che non lascia scampa Cucchietti. Raddoppio rosso-blu e sesta marcatura in campionato, per Arena, alla seconda doppietta in carriera tra i professionisti, dopo quella siglata tre settimane fa ad Olbia. Mini Far West, al 73esimo, Arena cade a terra per un problema fisico. I giocatori della Lucchese, tra cui Cucchietti, si avvicinano al numero 30 per farlo rialzare celermente. Si accende una zuffa, in cui Corsinelli appoggi il gomito sulla nuca di Cucchietti, che tracolla terra. Poi a Lagna, spintone a Corsinelli, che cade a sua volta. Entrano in campo anche i dirigenti, accompagnatori dalle panchine. Alla fine, Carrione e Spelli, il direttore sportivo toscano Deoma, e Corsinelli, con la parità numerica, che viene così reequilibrata nell'ultimo spicchio di partita. Braglia allora toglie spine, Arena inserendo Vitale Redolfi, chiudendo di fatto con un ermetico 4-4-1. Poi negli ultimi sette minuti spazio anche Ambacogo e Tazzer per Vasquez e Morelli, e Rosso-Blu amministrano con Sagacia il doppio vantaggio. Dopo tre sconfitte filate tra campionate e Coppa, il Gubbio torna a vincere raggiungendo quota 26 punti, salendo così in seconda piazza assieme a Lentella. Un punto sotto la reggiana capolista, confermandosi squadra da esportazione, come dimostrano le cinque vittorie in trasferte in sette partite, per 16 punti fuori casa, che sono il miglior rendimento esterno dell'intero girone. Sabato prossimo, sempre alle 17.30, si torna al Barbetti per sfidare San Donato-Tavarnelle.